Prima di iniziare vi dico subito che questa sera alle 20.30 continueremo a provare questo DLC in live su Twitch, link di tutto qui sotto in descrizione e vi ricordo vi potete anche abbonare gratis con Amazon Prime collegandola a Twitch per vedere tutti i contenuti in esclusiva per gli abbonati e escono in parallelo sia su YouTube che su Twitch. Davvero io inizio a non avere più parole per come sta facendo le cose Rockstar Games soprattutto abbiamo raggiunto l'apice col DLC che è uscito oggi ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video se non lo sapete oggi è uscito un nuovo DLC di GTA un DLC in cui sono accadute sono cambiate delle cose che aspettavamo da tanto venissero modificate ed è proprio per queste che questo DLC in parte è bello ma il problema è che è bello per i motivi sbagliati è bello perché hanno appunto in parte corretto delle cose che chiedevamo venissero corrette da un sacco di tempo modificate eccetera eccetera però per il resto per le nuove cose che sono uscite fa schifo più che altro pecca pecca per quanto riguarda lo scripting lo studio dei livelli eccetera eccetera non tanto per i veicoli peccano in modifica i veicoli ok e ce ne sono pochi contenuti sono comunque pochi e voglio farvi anche capire che cosa sto intendendo a parte il fatto che ci sono tanti errori tante sviste messe lì quasi di proposito che vedremo dopo ma le cutscene parliamo delle cutscene ok ci siamo sempre lamentati nella storia di GTA che le cutscene siano una rottura di coglioni perché le devi vedere rivedere rivedere anche se ti fai un nuovo account eccetera eccetera ora tu quando fai la nuova serie di missioni ok dell'operazione paper trail porca di quella puttana non c'è una cazzo di cutscene che ti spieghi nulla ti arriva una notifica in alto a sinistra che ti dice vai a fare questo per fare questa missione queste nuove missioni questa operazione fine tu arrivi lì e ti fa la cutscene ok piccola breve breve e ci sta però non schippabile hanno sbagliato tutto hanno eliminato la cutscene che ti doveva presentare questa operazione quindi questa operazione non è presentata in nessun modo all'interno del gioco cosa sbagliata perché noi non chiedevamo questo secondo hanno messo una cutscene non schippabile noi chiedevamo cutscene più brevi e schippabili non chiedevamo che venissero rimosse ma questi non capiscono davvero un cazzo credevano forse di accontentarci non mettendoci una cutscene di presentazione facendocene una breve all'inizio della missione no non ci avete accontentato noi chiedevamo che fossero schippabili non più brevi e soprattutto non che non ci fossero di modo che io entro online non so neanche che cazzo fare se lo so perché mi arriva la notifica non viene integrata all'interno del gioco la cosa c'è una cosa così aggiunta basta tu vai lì e la fai fine ma che merda lo posso dire lo posso dire che è una merda così ma parliamo un attimo dei nuovi veicoli prima di arrivare a tutti gli altri problemi tecnici che ho accennato poco fa i nuovi veicoli sono anche belli in realtà ok ce ne sono tanti che non sono stati rilasciati probabilmente nei prossimi giorni arriverà un video in cui in esclusiva ve li farò vedere tutti però ci sta un problema anzi ci stanno alcuni problemi le modifiche sono poche in quasi tutti i veicoli 5 l'elicottero dopodiché perché c'è da aprire un capitolo a parte per l'elicottero fa schifo primo non ha niente di superiore rispetto a altri elicotteri come ad esempio lo sparo secondo non puoi metterci nulla puoi modificare alcune cose all'hangar ok quindi è un velivolo personale perdonatemi però non ci puoi mettere un cazzo né contromisure né armi né un cazzo di niente è inutile io lo continuo a dire ma perché mettere un veicolo su gta soprattutto un elicottero che tu non puoi rendere armato siamo su gta capisci non su un simulatore di elicotteri se tu mi aggiungi elicotteri non me ne faccio un cazzo perché non posso modificarlo ma nel mondo reale abbi pazienza io prendo una cazzo di mitragliatrice la metto sopra l'elicottero fine c'è di peggio su gta online c'è il cazzo di veicolo il technical con i cazzo di bomboloni d'aria ai lati per farlo galleggiare è fatto veramente di merda realisticamente parlando perché è fatto di merda ovviamente è fatto bene all'interno del gioco programmato bene ma realisticamente parlando è fatto di merda alla meno peggio ok d'accordo ci sono cose così e poi non posso mettere una cazzo di mitragliatrice su un elicottero ecco ma se questo dlc vi ha completamente spolpati vi ha fatto spendere tutti i soldi e volete comprare altre cose semplicemente siete rimasti appunto al verde trovate il mio profilo instagram qui sotto in descrizione dove mi potete contattare per ricevere un'aggiunta molto modesta di qualche centinaio di milioni sul vostro account dopodiché parliamo di una cosa bella il fatto che abbiano nerfato l'oppressor come avevano detto come avevamo anche anticipato tutti noi giocatori di gta hanno nerfato i missili ossia adesso i missili sono gli stessi del buzzard che se tu ti muovi non ti colpiscono ok questo è quanto vengono deviati dai flare e i chaff dopodiché si possono lanciare o ogni 10 secondi se tu ti muovi oppure dopo un bel po' di tempo se tu stai fermo nello stesso punto varia a seconda di quanto poco o di quanto tanto ti sposti dal punto in cui li hai lanciati la prima volta ecco il fatto dei missili ci sta molto bene ed è una di quelle cose che avevamo previsto prima dell'uscita del dlc ciò che non avevamo previsto invece è il funzionamento del nuovo autosalone che di fatto beh io vi lascio alla mia reazione in live perché ci sono andato ed è successo questo sì l'immagino sarà ancora chiuso no avanti minchia no avanti a luxuris o surusto ah riapertura molto presto e voi potreste pensare quindi che non ci sia niente no no perché primo da lontano si vede il cazzo di autosalone nuovo prima o si vedono gli interni secondo ci puoi entrare se qualcuno è riuscito a creare un'attività dentro a quel punto e ti butta fuori come è successo in live comunque mattia credo abbia sì mo entriamo nello showroom attenzione guardate mo che si fa guardate un po' guarda ah sono dentro al nuovo showroom che non sarà neanche entrabile cioè sarà solo così quindi se uno si mette a qua tocca lui vede normale magari con la visione termica mi vede però prova a vedere col minchia oh però passa aspetto no infatti mattia ha proprio creato un'attività che ti permette di spawnare lì dentro terza cosa se ci stai dentro sei praticamente immortale a meno che non ti avvicini al vetro esterno siccome i vetri non sono trapassabili neanche con i proiettili blindati neanche con quelli della minigun non sono trapassabili dai razzi tu sei immortale è un nuovo cazzo di wall breach legit praticamente io me l'aspettavo già pronto comunque questo autosalone con l'uscita del dlc sembra quasi che abbiano fatto tutto di fretta e poi abbiano detto vabbè se c'è qualcosa da risolvere lo vediamo dopo che abbiamo rilasciato il dlc e ci pensiamo anche perché tutti i contenuti che dovranno uscire ci sono verranno poi rilasciati da rockstar games con i prossimi aggiornamenti settimanali ma tutti i veicoli all'interno dei file dell'aggiornamento ci sono non è che non ci siano correre nel casino un'altra cosa che avevano detto avrebbero modificato io avevo detto metteranno la possibilità di correre dentro al casino ma con la corsetta lenta non quella dell'hangar veloce infatti è stato così ma parliamo ora di queste nuove missioni le guardie di queste nuove missioni a parte tutti i problemi che hanno queste nuove missioni adesso ne andiamo a parlare sono riciclate fottutamente dal colpo al casino sono sempre quella è la sicurezza del casino praticamente senza se e senza ma ma oltre a questa attenzione perché la prima missione per dire ha un semplice problema anzi due semplici problemi il primo è che ovviamente vabbè tu devi entrare nell'appartamento con l'animazione tutta storta perché non ci entri effettivamente vieni teleportato dentro all'appartamento ok appena entri puoi vedere che tutte le finestre sono state coperte per fare in modo di non dover creare un nuovo interno e non doverlo posizionare nel punto giusto pensate che io stia esagerando non sto esagerando perché beh questo è successo in live come mai è tutto chiuso qua che strano certo che il cammino è acceso in piena estate con la bomba di caldo che dicono ci sia non lo so ricco forse c'è questo perché in un altro posto hanno coperto per non far vedere dai ma dai sostanzialmente hanno semplicemente coperto le finestre perché hanno riutilizzato un interno già presente che è da tutt'altra parte rispetto a dove si trova il luogo della missione dopodichè andiamo avanti con la prima missione devi andare al palazzo dell'fib per ottenere due cose ok due hardware tu vai a ottenere a parte il fatto che non li vedi devi andare in giro camminare te lo raccogli a caso prima cosa seconda cosa un altro problema sono questi cazzo di monitor che sono sempre stati bugati uno in particolare ecco qua sostanzialmente eh ma abbiamo parlato prima della oppressor ok dei missili parliamo un attimo della deluxo che come probabilmente saprete era utilizzatissima prima dell'uscita della oppressor per i suoi missili perché aveva gli stessi missili dell'oppressor ho detto aveva no ha ancora gli stessi missili che prima aveva l'oppressor perché la deluxo non è stata nerfata quindi adesso la gente probabilmente andrà in giro con la deluxo al posto dell'oppressor come si faceva già una vita fa il che li rende ancora più scarsi di quanto non siano perché con laser le abbattino un attimo le deluxo però per il resto ti rompono solo che i coglioni oh ma beh un lato positivo lo abbiamo nelle nuove armi come? ah no no non abbiamo l'attivi positivi per quanto riguarda le nuove armi perché abbiamo un fucile chiamato fucile di precisione che si compra all'ammunation sotto i fucile da cecchino hanno pure fatto spazio per farlo comprare piuttosto che metterlo all'armeria di terror bite come eccetera eccetera hanno fatto spazio all'ammunation vai a capire poi non ha modifiche hai capito bene oltre alla colorazione non ha modifiche né caricatore steso né mirini fucile di precisione senza mirini fucile di precisione senza mirini io non so se abbiano seguito un po' la falsa riga della seconda arma che adesso vi spiego come si trova e che quindi sia necessario trovare in giro per la mappa le modifiche ma non credo perché avete sentito bene per quanto riguarda la seconda arma e per assemblarla bisogna fare come su gtrp andare a prendere le componenti in giro per la mappa e assemblarla ma davvero? ma non lo so io spero sia scarsa sta arma di modo che la gente non debba farlo in ogni cazzo di account nuovo per appunto poi avere l'arma definitiva da usare contro gli altri davvero non so che altro dire questo DLC è pieno di problemi carino ok carino alcune cose che hanno aggiunto saranno carine le macchine che aggiungeranno nelle prossime settimane a sto punto perché non è uscito praticamente un cazzo però troppi problemi e delle scelte veramente infelici per non dire che fanno schifo tipo quella di non presentare in nessun modo l'operazione paper trail detto questo spero vi divertiate comunque con questo aggiornamento mi trovate in live questa sera alle 20.30 su twitch vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima e noi ci rivediamo